Qui ci troviamo in un altro punto di Barcellona, bel panorama, facciamo, vediamo qua, si vede? Come no? Ma si mette di soldi? I soldi si mettono, ma no, una femmina nuca, vediamo, si mette di soldi, no, si mette di soldi, cazzo, non ciò che a me, dai, Luca, dai, vamos, vamos a balai, vedete che spettacolo, vedete? Vedi quella a mezze maniche?